Olè, ye da Alex in... che è attacco a Karkand sta mappa? Che mappa è? Non ce lo dice. Server vuoto, abbiamo preso... preso tutto quanto e... carro, sono riuscito a mettere un carro sul primo piano della casetta. Vai, spara, spara! Non ho senso, che belli bug di Battlefield. Gioco dell'anno, eh? Va, qualcuno, non si sa chi ha nominato il gioco dell'anno. Va, vai. Saluta con una cannonata, Alex. Saluta con una cannonata.